Sull'1 a 1 credevo fortemente che potevamo vincere la partita perché ho visto il fuoco nelle teste e nelle pance dei ragazzi e quindi ero straconvinto che saremmo arrivati a vincere la partita e quindi quando abbiamo pareggiato ero sereno, lo dico in maniera molto onesta. Questo non è un fattore solo per me ma per tutti gli allenatori. Quando hanno a disposizione più giocatori da poter far subentrare è tutto più semplice. Karima Teng veniva da tre mesi di inattività e aveva bisogno di tempo, Birligia è stato tre mesi fuori e quindi sì, quando ho i ragazzi a disposizione per me è tutto molto più semplice. Abbiamo affrontato una squadra forte, secondo me avevamo di fronte un'ottima squadra, allenata molto bene. Faccio i complimenti al loro allenatore perché Bruno Caneo è un allenatore di spessore secondo me. La mia squadra è stata interpretata in maniera perfetta la partita e poi siamo stati bravi ad ottenere la vittoria. Andiamo avanti, abbiamo vinto questa partita, siamo molto contenti. In questa settimana siamo stati criticati fortemente, la squadra è stata criticata pesantemente, fortemente. Io sono molto orgoglioso di questi ragazzi, ma sono orgoglioso soprattutto dello spessore umano di tutti i ragazzi che ho a disposizione, non solo della caratura tecnica perché non sono io che devo metterla in luce, lo sappiamo la loro forza, ma del loro spessore umano. Che hanno risposto sul campo a tutte queste critiche, perché non c'era maniera migliore per loro di dimostrare il loro spessore umano, di rispondere sul campo a queste critiche. Io di questi ragazzi vado fiero e credo che in molti dovrebbero essere fieri di loro e di come lottano per questi colori. Possiamo aver avuto qualche battuta d'arresto, lo so, ma è proprio in quei momenti che i ragazzi vanno sostenuti ed appoggiati, se si crede in loro. Quello che noi come gruppo squadra abbiamo fatto sempre. Ragazzi di uno spessore umano oggi hanno dimostrato di essere di uno spessore umano per me di un'altra categoria.